Riscoprire la cittadella Vescovile del Colle del Pionta, questo all'intento del Comune di Arezzo. Il colle dove sorge la cittadella universitaria di Arezzo ospitò fino al 1203 l'Episcopio con il Duomo Vecchio. In quell'anno la cattedrale fu trasferita in Tramuegna a seguito di una bolla di Papa Innocenzo III. L'antica sede Vescovile era composta da due chiese cattedrali, la prima conosciuta con il titolo di Santa Maria e Santo Stefano, l'altra era il Tempio di San Donato. Il sito fu definitivamente abbandonato nel 1561 quando il Granduca Cosimo I ne ordinò la distruzione. A seguito di questa il Vescovo Usimbardi fece costruire nel 1610 una piccola chiesa dove si conservano i reperti ritrovati durante le varie campagne archeologiche che hanno messo in luce i resti proprio di Santa Maria e Santo Stefano, datata tra la fine del VII e la prima metà dell'VIII secolo. Obiettivo della prima fase è rendere accessibile e comunicare al grande pubblico il patrimonio culturale del Pionta attraverso applicazioni tecnologiche caratterizzate da un elevato impatto comunicativo, da una elevata qualità scientifica e da contenuti culturali. Gli studi condotti nel 2006 dalla professoressa Molinari dell'Università di Siena saranno assunti come punto di partenza. I ritrovamenti della fortezza, questo studio sul Duomo vecchio, sul Duomo del Pionta, ci prospettano a un nuovo interesse archeologico. Diciamo che la zona archeologica era soltanto quella dell'anfiteatro e del bellissimo annesso museo archeologico che invito sempre i cittadini a visitare perché è veramente molto bello e importante. Ma ecco ora si stanno ampliando, queste due chiese ritrovate fanno proprio piacere nelle due vecchie città, la città del Pionta e la città dell'Acropoli. Approfondendo il discorso mi sono accorto che il Coro del Pionta era una sede importante, c'era una città, c'era lì. Per cui ho deciso di fare questo intervento d'accordo con la soprintendenza ai beni archeologici della Toscana, con i due assessori, il professor Pasquale Macri e il dottor Ringoli alla cultura e ai lavori pubblici. Ho trovato il consenso immediato e per cui si va avanti. Domani mattina ci sarà il volo col drone per fare i rilevamenti in 3D, in ortofoto e successivamente per avere una mappa tridimensionale. Successivamente faremo un rilevamento terrestre con laser scanner e ci sarà un momento di pausa, diciamo, perché tutti questi dati verranno elaborati. In base a queste risultanze farò una ricostruzione ipotetica di quello che era la cittadella.